Andiamo a sentire la zebra parlante, va che almeno cambiamo argomento. La zebra parlante è Luigione da Lizzano Bianconera, vai Luigione! Da Taranto Luigi abbatte la zebra parlante, Juventus Club Lizzano Bianconera, Juventus Club Fratelli Bianconeri, Club Doc, un club che racchiude varie realtà bianconere pugliesi. Beh, Marcello e amici della redazione, dal 22 novembre con Santa Cecilia sono iniziate le festività natalizie e quindi un bell'albero a corredo di questo mio intervento. Beh, c'è motivo di festeggiare, di vivere insieme un Natale bianconero vincente, perché noi vinciamo, certo, diciamocela, diciamocela tutta. Il gioco non è spumeggiante, non mi entusiasma, pur tuttavia quello che contano sono i risultati. Diceva Mister Conte, noi scriviamo la storia, gli altri la leggono. Questo è un po' il nocciolo, il succo della questione. Beh, se consideriamo la partita con il Siviglia, non abbiamo espresso un gioco stratosferico, all'inizio abbiamo anche sofferto, siamo andati in svantaggio, però vedete, quando si ha uno zoccolo duro, quando si hanno campioni con gli attributi, cito alcuni, Bonucci, Marchiscio, pensate Marchiscio, torna da un infortunio e si carica la squadra sulle spalle e va a battere un rigore decisivo. Questa è la Juventinità, la Juventinità che sta nel DNA, la bandiera bianconera che è stampata sulla pelle. Cosa dire? Sento qualcuno che storce il naso per il gioco? Sì, però non esageriamo più di tanto, ma abbiamo sette punti di vantaggio in campionato sulle seconde. In Champions siamo primi, non so fino a che punto converrà i fini del sorteggio, di cosa ci lamentiamo. Sento i tifosi di altre squadre che talvolta criticano molto spesso la Juve, e penso agli intertristi prescritti cartonati. Insomma, dobbiamo parlare dell'Inter, che praticamente è fuori di fatto dall'Europa League. Cosa dobbiamo dire, signori cari? Sentivo qualche persona non molto intelligente, dovrei dire, che diceva voi siete aiutati dagli arbitri, qualcuno in maniera veramente incredibile ha avuto il coraggio di contestare anche il rigore su Bonucci, ma stiamo scherzando? Ma veramente dobbiamo parlare? Insomma, questa è una squadra pragmatica che va al risultato, questo mi interessa, la mentalità vincente. È chiaramente una squadra che deve migliorare. Migliorare, l'ho già detto altre volte, anche a centro campo, quello è il punto nodale, cioè il raccordo, la capacità di fornire gli attaccanti. Però non dimentichiamoci, perché vedete, noi i Juventini ci lamentiamo molto spesso. Ma, signori cari, abbiamo dimenticato che con il Siviglia mancava mezza squadra? Abbiamo dimenticato che in attacco c'era il solo Mandzukic, a causa appunto dei forfè di Bala, di Higuain e dello stesso Piazza? Ma dobbiamo dimenticare una difesa praticamente priva di Chiellini, che è entrato negli ultimi minuti, e di Barzaglione? Insomma, questa squadra ha avuto delle grosse perdite, eppure è andata avanti ugualmente. Ci sono alcuni campioni sotto tono, penso a Daniel Vess, penso a Pjanic, però il tempo è galantuomo, noi carbureremo il vero obiettivo, almeno secondo me, e penso il sogno di tutti, è la Champions. I conti si faranno a febbraio-marzo, vedremo come andrà il sorteggio, e vedremo anche nel mercato di gennaio cosa si farà. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, chissà, chissà, che a Cardiff non solleveremo la Coppa con le grandi orecchie. Lo dobbiamo dire, non dobbiamo nasconderci. La Coppa deve essere ufficialmente un nostro obiettivo. La squadra, la società, lo deve dire. Noi puntiamo in maniera mirata alla Coppa, poi si può vincere, si può perdere. Abbiamo tutto per farlo. Che dire, una Juve vincente sarà un bel Natale. Da Taranto, Luigi Abate, la zebra parlante, Lizzano bianconera, è tutto. Marcello e amici di Top Planet, alla prossima. Allora, lui mi diceva però, mentre ti stavo ascoltando Luigi, anche se dice una cosa sacrosanta, noi scriviamo la storia e gli altri la leggo, no? Mi dicevi che non sei d'accordo su quello che diceva... Non sono d'accordo con Luigi, pur condividendo per certi versi quello che dice, però non sono d'accordo sul fatto che la società deve dire chiaramente di puntare alla vittoria della Champions League. Credo che faccia bene invece ad allentare la pressione sulla squadra e dire chiaramente che l'obiettivo è quello di arrivare fino in fondo. Però un po' per scaramanzia, un po' per non dare troppa pressione. Non mettiamo pressione, non mettiamo pressione. Perché per certi versi la pressione si è già creata. Non mettiamo la pressione. Grazie.